Buongiorno, oggi vi voglio leggere un brano tratto da un classico della economia politica. Si tratta del libro di Adam Smith intitolato Una inchiesta intorno alla natura e alle cause della ricchezza delle nazioni. An inquiry into the nature and causes of the wealth of the nations. Perché ho scelto proprio di commentare un breve brano tratto da questo libro? Perché Adam Smith viene considerato non soltanto come uno dei padri fondatori di quella disciplina che oggi chiamiamo economia politica ma anche come un autore liberista cioè un autore il quale ritiene che l'intervento dei governi nella attività economica e finanziaria debba essere limitato il più possibile. È nota la teoria di Adam Smith della mano invisibile la quale in poche parole sostiene che il benessere generale di una nazione è assicurato soltanto quando gli operatori economici quindi gli imprenditori, i commercianti, i banchieri vengono lasciati liberi di svolgere la loro attività e cioè di realizzare egoisticamente il massimo profitto. L'idea di Smith è che questo gioco degli egoismi viene arregolato da una specie di potenza superindividuale che lui chiama appunto la mano invisibile la quale armonizza per così dire il gioco degli egoismi individuali e si riflette poi positivamente sulla benessere dell'interna nazione cioè la mano invisibile regolando come dire il gioco degli egoismi individuali cioè la ricerca massima del profitto da parte degli operatori economici fa sì che la ricchezza della nazione aumenti e che quindi aumenti anche il benessere delle classi più povere delle classi meno agiate. Ora, in base a questa teoria che pure è presente nel libro di Smith si potrebbe pensare che l'autore scozzese sia contrario all'intervento del governo in campo economico ma alcuni brani della sua opera inducono invece a pensare il contrario. Il brano che leggerò oggi dimostra proprio questo cioè dimostra che Adam Smith non è affatto contrario all'intervento del governo in campo economico ma anzi lo auspica nel momento in cui l'attività finanziaria in questo caso perché Smith parla dell'attività delle banche e in particolare della creazione di carta moneta possa compromettere alla lunga se non viene regolata dallo Stato possa compromettere il benessere dell'intera comunità e anzi trasformarsi in una vera e propria catastrofe economica. In una certa misura Smith ritiene che l'attività bancaria ed in particolare la creazione di denaro dal nulla cioè l'emissione da parte delle banche private di carta moneta non coperta da un'adeguata riserva aurea sia un come dire un fattore positivo sia un fattore che stimola l'economia ma l'emissione di questa carta moneta deve essere molto limitata e soprattutto deve essere rigidamente regolata dal governo. Questo dunque fa di Adam Smith un autore che non esclude l'intervento del governo a regolare l'economia a regolare l'attività economica nel senso appunto di salvaguardare il benessere collettivo contrariamente a quanto si potrebbe pensare se ci si limita soltanto alla dottrina della mano invisibile. Bene passiamo adesso alla lettura del brano il brano è tratto da un capitolo che Smith dedica alla moneta quindi alla circolazione monetaria ed in particolare alla creazione di carta moneta da parte delle banche degli istituti privati. scrive Smith si potrebbe dire peraltro che proibire ai privati di ricevere in pagamento i pagherò di un banchiere per una somma grande o piccola quando essi siano disposti ad accettarli oppure impedire a un banchiere di emettere tali piglietti quando tutti i suoi clienti sono disposti ad accettarli è una manifesta violazione di quella libertà naturale che è specifico compito della legge proteggere e non impedire quindi quando qui Smith parla di pagherò e di biglietti che la banca emette si riferisce alla carta moneta cioè si riferisce a quella che si potrebbe considerare una creazione di denaro da nulla perché la banca emette carta moneta che viene accettata in pagamento in una misura superiore rispetto alle monete d'oro e d'argento che essa ha nei suoi forzieri quindi questo come dire surplus di carta moneta rispetto alle riserve d'oro e d'argento che la banca possiede costituisce appunto una creazione di denaro dal nulla ripeto Smith dice che entro certi limiti questa creazione di denaro può essere utile e può andare a beneficio dell'attività economica di un certo paese ma oltre dei limiti precisi essa può rivelarsi disastrosa qui Smith accenna al fatto che se i clienti di una banca sono disposti ad accettare questa carta moneta se questa carta moneta in un certo senso riscuote la fiducia del pubblico potrebbe essere considerato un atto arbitrario un atto lesivo di quella che Smith chiama la libertà naturale il fatto che il governo imponga alle banche private di limitarne la circolazione Smith risponde e adesso lo leggeremo che questo atto di forza diciamo così del governo di limitare quindi la libertà naturale è un atto in un certo senso etico perché l'esercizio incontrollato della libertà naturale porta all'edere le libertà di altri individui questo è in sostanza il discorso che fa Smith vediamo in che termini egli ce lo espone senza dubbio tali regolamentazioni possono essere considerate sotto un certo aspetto come una violazione della libertà naturale ma un esercizio delle libertà naturali di pochi individui che potrebbe danneggiare la sicurezza dell'intera società è e deve essere limitato da tutti i governi dai più liberi come dai più dispotici ecco la frase che secondo me indica chiaramente come il pensiero di Smith non possa essere in nessun modo interpretato come un come dire come un liberismo assoluto come un pensiero che attribuisce al governo quindi allo Stato una funzione subordinata rispetto all'economia ma Smith anzi in questo caso dice chiaramente che il governo quindi lo Stato deve porsi in una come dire posizione di superiorità rispetto agli operatori economici ed imporre loro una limitazione alla libertà naturale di perseguire l'interesse di pochi proprio a vantaggio della collettività quindi vedete come questo passo indubbiamente non permette di attribuire a Adam Smith l'etichetta di un liberista assoluto per così dire cioè di un liberista nel senso cioè di una subordinazione del potere dello Stato del potere del governo alle esigenze del mercato continuiamo a leggere vediamo l'esempio che Adam Smith fa per avvalorare la sua posizione ripetiamo dunque questa frase che è molto importante rileggiamola di nuovo ma un esercizio delle libertà naturali di pochi individui che potrebbe danneggiare la sicurezza dell'intera società è e deve essere limitato da tutti i governi dai più liberi come dai più dispoti ci vedete qui Smith non fa una differenza tra governi democratici governi liberali e governi dispotici monarchie eccetera eccetera dice che tutti i governi se vogliono come dire preservare l'intera comunità quindi se vogliono essere di giovamento non soltanto a una parte alla parte più ricca alla parte privilegiata ma se vogliono fare il bene di tutti i cittadini di tutti i sudditi anche dei più poveri devono limitare la libertà dei pochi di perseguire egoisticamente i loro interessi l'obbligo di costruire muri divisori per impedire il propagarsi degli incendi è una violazione della libertà naturale esattamente dello stesso genere delle regolamentazioni dell'attività bancaria che sono qui in discussione ecco vedete l'esempio se io governo ti obbligo a costruire un muro divisorio che impedisca a un incendio di propagarsi e quindi se il governo impone l'obbligo di costruire dei muri divisori questa imposizione è certamente una limitazione alla mia libertà naturale di non farlo ma è un obbligo a cui io devo essere costretto per il bene della collettività per il bene dell'intera comunità allo stesso modo il banchiere che emetta una quantità eccessiva di carta moneta molto superiore alle coperture d'oro e d'argento che egli ha nei suoi forzieri sta perseguendo il suo interesse egoistico a danno dell'intera comunità perché se la carta moneta in circolazione supera di molto le riserve d'oro e d'argento a disposizione della banca alla lunga questa situazione porterà ad una crisi economica una crisi finanziaria che danneggerà l'intera comunità bene con questo ho terminato vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video